Geremias Rodriguez, con Stefano De Martino? Non ci parliamo più Geremias Rodriguez e il rapporto con lex cognato Stefano De Martino, non ci parliamo più. Ospite nello studio di sabato italiano Geremias Rodriguez è tornato a parlare del suo rapporto con la famiglia. A Belen e Cecilia il ragazzo è molto legato, così come ai suoi genitori che, anche nei momenti più difficili della sua vita, sono stati molto vicini allex concorrente del grande fratello Vip. E con i fidanzati e i compagni delle sorelle, invece, che rapporto ha oggi Geremias? Ad Andrea Iannone, dice lui, è molto legato. Sono simili e, come Geremias, anche il fidanzato di Belen è molto timido. Con Stefano De Martino, invece, le cose sembrerebbero essere molto diverse. Geremias Rodriguez, quali sono i rapporti con Stefano De Martino?. A quanto pare, stando alle dichiarazioni di Geremias Rodriguez, Stefano De Martino è lunico dei suoi ex cognati con cui il fratello di Belen non ha più rapporti. Non ci siamo più parlati ha dichiarato Geremias ai microfoni di sabato italiano Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non centro niente. Questo però, come spiega lui, non ha mai cambiato la stima che largentino prova nei confronti di Stefano. Grazie allunione di quest'ultimo con sua sorella Belen, infatti, è nato Santiago. Mi ha dato la cosa più bello che ho spiega Geremias ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui. Geremias e la crisi con la fidanzata, con Sara è finita. A Rai uno Geremias ha anche confermato oggi la crisi con la fidanzata Sara. Tra di loro è finita, hanno cercato di sistemare le cose dopo luscita di lui dalla casa del grande fratello, senza tuttavia essere riusciti a trovare un punto di incontro. Con Aida Jespica, inoltre, come sappiamo l'amore non è mai scoppiato dopo il reality. L'argentino perciò, stando allo stato attuale delle cose, probabilmente rimarrà singola ancora per un po', forse.